ragazzi sono arrivato a riccione guardate un po ora riccione ho messo la bellezza di 10 ore e 55 minuti non è stata una passeggiata sono arrivato da questa mattina le 640 da casa grande di reggio emilia che sono arrivato adesso che sono con le soste che ho fatto ci sta ciao ragazzi a dopo